Sarà una partita difficile, la Giorgia è comunque una buona squadra, abbiamo visto il video e ci stiamo preparando bene, tranne qualche infortunio la squadra sta bene, un gruppo a quale si è aggiunto Volpi che non stava con noi da due anni, però un giocatore buono e ci darà sicuramente una mano anche lui. Il gruppo è alla nostra portata, possiamo vincere entrambe le partite, non sarà facile perché sono squadre a livello nostro, però penso che ce la possiamo fare. Invito tutta la gente del posto a venire a sostenerci e darci una mano per vincere questa partita.